Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dei Contoterzisti. Oggi non c'è nessun ospite perché abbiamo diverse cose di cui parlare sulla serie dei Contoterzisti e poi era da un po' che non facevamo un episodio da soli, senza ospiti, eccetera, quindi il ritorno dei Contoterzisti. Quindi questa settimana ci sono state nuove serie e solo un episodio della Farno di Giuliano ma recupereremo la prossima settimana. Oggi arriva un ordine importante perché finalmente abbiamo decretato il vincitore appunto dei trattori da 150 cavalli. Sta arrivando il camion dietro a quel muro, adesso marcherà la foglia del nostro portone e ragazzi appunto vi farò vedere le nostre scelte. Chi sta arrivando dentro? Camion con su case, vedo e Valtra serie G equipaggiato verso perché fai i versi ragazzi. No, speriamo che non faccia versi a presso perché è un problema. Comunque, a parte gli scherzi, faccio salutare da Luca. Niente, non c'è Luca. Faccio salutare da Ema. Ciao a tutti. E da Giuseppe. Ciao a tutti. Luca è massa stupido come dice lui e quindi non saluta. Tanto Giuseppe scarica pure il Valtra, tenendo con le ruote standard. Invece il case gli mettiamo sulle ruote strette che dobbiamo andare a irrorare un campo molto molto grosso con la nostra Querneland. Niente, Ema, tu puoi partire con la missione di coltivazione del nostro cliente. Luca può partire con la semina, sperando che ci senta se non è morto. Non so cosa stia facendo Luca, parti pure con la semina, boh, ami, ciao. Non lo so. Se voi avete capito cosa è successo Luca, io sinceramente, però... No. Ok, adesso è partito, è partito magicamente. Chissà. Non va il maker, perfetto. Grandissimo Luca. Grandissimo, come solito. Proprio bravo. Complimenti. Comunque, abbiamo il nostro case. Ok, li faremo contenti tutti questi case... Come si chiamano i amanti del case? Boo? Boo? Non hanno manco un nome da tanto... No, dai, sto scherzando. Sto scherzando, ragazzi, ci mancherebbe. Allora, Beppi, 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 leggi quante... Appunto, nei commenti vi avevamo chiesto due settimane fa cosa compriamo tra Case, John Deere e Valtra. Appunto, noi siamo andati a scegliere i più votati. O perlomeno, Beppi, di quante volte sono stati votati uno, l'altro, eccetera. Allora, ho avuto un totale di... Sono stati scritti un totale di 185 voti. Attenzione. Con la vittoria per il Case con 94 voti. Sì. Secondo posto, John Deere con 53 voti. Sì. E il terzo posto, il Valtra, con 38 voti. Ok, noi invece abbiamo scelto, in ogni caso, il nostro amico Case... Ah, scusate, il nostro amico Valtra, anche se è stato votato poco. Comunque, lo sai che mi sa che non ci sono le ruote strette per questo trattore? Ah, no, ci sono, è vero. Perfetto, Trellborg. Sì, è grossotto, però... Sentite? Adesso lo sentiamo, lo sentiamo. Lo sentiamo. Ciao, ciao Luca, come va? Bene, bene. Comunque, è ridicolo che le ruote qua, anteriori del Case, siano grosse, non so, come quelle di un riciclo. Mai visto? Sì, 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 sì. Cioè, sono un micro... Ma chi quale dietro? Quelle dietro non sono da meno. Ma sì, ma su un microscopio, ma cos'è? Cioè, ma boh, cosa gli è successo? Non lo so. Comunque, insomma, il più votato era stato sicuramente il Case, secondo il John Deere, ma dato che ne abbiamo acquistati tanti, John Deere, abbiamo detto, dai, facciamo contenti anche i Valtristi, i Valtrari. Come si chiamano? Ma che vedi? Non hanno nomi, questi due trotti. Niente, ragazzi, dateci delucidazioni nei commenti. Allora, Beppi, adesso io e te andiamo al campo 1, è molto grande, post-emergenza su Mice, se non sbaglio. Ti seguo. Più che altro, sai cosa devi fare, caro Giuseppe? Devi cominciare a leggermi le ultime attività su Instagram, le ultime 5, dai. Va bene. Abbiamo Filofra14. Sì. Poi JimmyPastorello06. Sì. Lorenzo128. Ciao, Lorenzo. Gio Canavelli. Ciao, Gio. E AgriSerra. Ciao, AgriSerra. Bene, li abbiamo salutati tutti e 5, ragazzi, quindi seguiteci su Instagram, mettete dei like, seguite i poster, seguite le storie, che appunto noi salutiamo le ultime attività. Niente, detto questo, scrivete anche le vostre domande nei commenti, le più belle verranno scelte e risposte nel prossimo episodio. Abbiamo saltato due episodi di risposta alle domande perché abbiamo avuto Alex, abbiamo avuto Robimele, quindi abbiamo preferito piuttosto chiacchierare con loro rispetto che rispondere alle vostre domande. Infatti vi avevo chiesto nei due episodi con gli ospiti di non farne e siete stati abbastanza bravi. Infatti noi andremo a ripescare le domande del terzo e ultimo episodio, giusto? Sì. Ok, il campo è tanto lontano, in teoria è abbastanza, abbastanza, c'è un bel viaggetto. Riesci a leggere qualche domanda durante il viaggio o devo fare un taglio? No, meglio fare un taglio. Meglio fare un taglio, bene, allora ragazzi, ci vediamo quando arriviamo in campo. Bene ragazzi, eccoci arrivati al campo 1. Direi che possiamo cominciare a riempire... Mi dice che è vuoto il cassone, oh. Ma come? Eh, vedi? Cambia, cambia tubo, cambia. Vai Beppi, guanti, dp, maschera, su, cambia. Dai Beppi! Ragazzi, queste le tengo tutte. Io veramente mi dispiace, ma mi sa che i tubi non li utilizzerò più per questa botte, perché tutte le volte è bello fare le cose realistiche, ma... Cioè, veramente ragazzi, non... Perché mi dice che sono vuoti? Cioè, ma... Perché? Perché sono... Ah, ok. Sì, perché è bugato, se la direzione è appunto di caricamento o svuotamento. Sì, lo so, ho presente che è bugato. Svuotamento ti carica e riempimento ti carica. Ecco, vedi, bellissimo, è finito il cassone comunque. Ma dai! E quello mi sa che c'era il fondino dell'altra volta. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Dai, oh. Vai, Nelpi. Carica, però. Ok, perfetto. E niente, io, Beppi, direi che puoi cominciare a leggere le domande e mi raccomando, ragazzi, fatene tante, le più belle, le prendiamo nel prossimo episodio e appunto gli rispondiamo. Leggi sempre il nome della persona e quando vuoi parti. E comunque, mi raccomando, Giuseppe, ricordami alla fine dell'episodio che dobbiamo adobbare l'azienda a suon di Natale. Eh sì, anche. Ovviamente c'è i capellini. Quindi parto dal terzo ultimo episodio, giusto? Sì, staccami il tubo perché abbiamo finito anche l'altro cassone, ma dovrebbe essere sufficiente. Andiamo, ragazzi, a una quantità, vediamo subito, di... Ma 250 litri, però dai, ragazzi, così dovrebbe essere sufficiente. E possiamo provare a questo case in queste condizioni. In trasporto, ragazzi, si è comportato bene, quindi direi ottimo. Qua abbiamo una barra da un sacco di metri. 40. Ma che 40? L'abbiamo preso un po' più piccolo, sai. No, no, te lo dico io che è 40. Ma come 40 metri? Ti risulta, Beppi, a te. No, io mi ricordavo che eravamo piccola. È 40, perché l'ultima volta... È 40. Ok, vabbè, se lo dite voi, teniamo così. Allora, no, prima... Leggi pure la domanda, Beppi, che intanto io setto la GPS. Abbiamo Mattia Pretolani che dice Ciao Giuliano, bellissimo video come al solito, non prendo le 7R. Cosa preferisci tra natura e arieggiatura e quali consigli? Allora, dipende dalle condizioni del terreno, dipende dalle... Dipende da tante cose, ragazzi, dalle vostre attrezzature, eccetera. Io purtroppo non ho mai provato in vita mia l'arieggiatura, quindi non posso darti un feedback valido su questa lavorazione. In ogni caso, questo è... Hai visto, Beppi, che mi sono fermato all'inizio per innescare... Eh? Ne siamo vista. Eh, hai visto, hai visto? È così, eh. Comunque, non hai neanche incareggiato a sto trattore. Hai visto? Luca, c'è un disastro qua. Pesti tutte le gambe. Pesti tutte le gambe alle maie. Maria. Eh, Maria. Io esco, ti dice. Comunque, fate questo. Appunto, stiamo facendo fuoco tipo Rund Up Max dietro la... dietro la... la erroratrizze, però... Va bene così, va bene così. Là c'è Emma che erpica e Beppi vai pure avanti con le domande. DJ Elo, per prima cosa bellissimo video. Volevo chiederti se in futuro ti piacerebbe avere un sistema di rigazione tipo Ranger. Saluti dal Belgio. Eh, un Belga abbiamo addirittura. Mi piacerebbe avere sistemi del genere, però ragazzi costano veramente troppo e quindi non ho sicuramente budget per investire su quello. Ma quelli sarebbero i Ranger? Hai presente quelli con tutti i getti che si muovono, che fanno l'irrigazione a pioggia, insomma dai, il pivo, quella roba lì. Ah, ho capito. Capito, capito. Sì, ho capito. AgriFede07, ciao Giuliano, se dovessi scegliere una seminatrice, prenderesti una combinata o una seminatrice classica? E di quale marca? Bellissimo video. Allora, una combinata con l'arpece rotante? Anche no, ti direi. Se non una per interfila stretta per gli autunno vernini. Nel mio contesto aziendale forse prenderei di più una normale affiancata nell'acquisto da un, non so, un istirpatore da minima lavorazione, quindi dischi e così via. Qua ragazzi purtroppo ho la barra su tutta, ma lavorando in pendenza, farming è così e la barra tocca. Maledetto farming. Per non dire altro. Michele Fasolato, che marca di gomme preferisci per le automobili? Michelin tutta la vita. E comunque Michele Fasolato, se non sbaglio, in un video ha scritto, meno male che non mi chiamo Michele. No, aspetta, ha scritto, meno male che non abito a Mantua. Perché sai che avevo detto che Michele e a Mantua erano le caccole del naso. Sì. E quindi lui ha detto, meno male che non abito a Mantua. Vai Beppi, vai con la prossima domanda. E le domande dal terzo, ultimo video, sono finite per quello delle... Sì, se c'è qualcosa, se c'è qualcosa appunto negli ultimi video, o videi come dice qualcuno. No, ok, nell'ultimo video vai, vai pure. E comunque vi ricordo ragazzi che lunedì esce il continuo di Acacia col Beppi, che c'erano proprio lasciategli su uno sparo. Dopo esce il continuo di GTA, eccetera, eccetera. Quindi anche la prossima settimana sarà ricca, arriveremo fino al Natale con Masters of Wood. Poi si vedrà. Io ve l'ho detto che ci prendiamo una leggera vacanzina tra il 26 e il 2 di gennaio. Però non è detto che se abbiamo del tempo libero una live la facciamo. Comunque in ogni caso in quella settimana un video esce, eh. Non è che vi lasciamo così senza contenuti. È che ci prendiamo un attimo una pausa da quello che è la pubblicazione giornaliera. E niente, poi appunto domani esce Acacia col Beppi, perché questo video lo state vedendo di domenica. E poi, che dirvi, questa sera non ci sarà nessuna live, perché appunto non riusciamo proprio materialmente a farla. E si riprende appunto da lunedì. Quindi questo è l'unico contenuto di domenica. Lo so che eravate abituati ad avere live più video da domenica, però questa settimana va così. solo video. E niente Beppi, vai se hai trovato qualcosa. Davide Borsato, bel video come sempre, ma i soldi che guadagni da YouTube ripagano l'investimento di tempo? Soprattutto con i canali di Italian Farmer? Allora, mi piacerebbe risponderti di sì. Non ho nulla da nascondere. Se vuoi pubblico anche gli screen delle entrate. Ma tanto per dirti, ti dico questo, sono molto trasparente e onesto. No, in sostanza. Mi piacerebbe dirti di sì, ma è no. Ma anzi, guarda, ti faccio anche ragionare su dei dati, che così uno diceva, ma quanto guadagni? Allora, fai una cosa. Dal salotto di Giuliano, tra donazioni, quindi abbonati e monetizzazione pubblicitaria, eccetera, quest'anno ho guadagnato, proprio te lo dico, 830 euro. Ok? Al 31 di dicembre saranno 840, forse, non lo so. Vabbè, mettiamo 830 euro. Tu considera che abbiamo fatto da pannello, eh, e ne dobbiamo fare ancora più di... Quante ore di live erano saltate fuori, ragazzi? 54. Sì, appunto, arriveranno a 60, ok, le ore di quelle live. E quelle sono solo le live. Poi quanti video abbiamo pubblicato in questo, in quest'anno? Metti una sessantina di video, quindi, tra montaggio, registrazione, eccetera. 15 ore. Beh, 60 video, considera le ore di montaggio anche dopo, o di sistemazione della partita, fai una media di un'ora per video, ok? Quindi, appunto, che poi sono molti di più di 52 video in quest'anno, perché ne pubblicamo due settimane, e questo mese ne abbiamo fatti molto di più, eccetera, eccetera. Quindi tu prendi 120 ore, adesso, Beppi, prendi la calcolazione alla mano, e fai 800, ok? Diviso 120. Volendo anche mettere le ore del server pubblico d'estate... Sì, sì, aspetta, aspetta, aspetta. Sono 6 ore e 66 periodico. Allora, sono 6 euro ora, ragazzi, ok? Sporchi, sporchi, perché a quei 6 euro ora dobbiamo detrarre il costo della corrente e altre spese, caricamenti, eccetera. Internet, corrente, e così via. Quindi, oltretutto, quei 6 euro vanno divisi tra 4 barra 5 persone. Quindi fai 6 diviso 5, però Beppi? 1.25. 1.25 euro a testa ora, e a cui, appunto, bisogna detrarre corrente, internet, i DLC che ho comprato a tutto il mio staff, e che, ragazzi, appunto, solo di DLC, capite che ci sono, nel caso, per esempio, dell'Alpine, sono 20 per 5, 100 euro, e così via. Quindi, sicuramente con questo canale, ed è per quello che dico sempre che lo faccio per divertimento, ci sto rimettendo dei soldi. Cioè, effettivamente è un rimetterci dei soldi. Punto. È solo per farti capire, non è assolutamente per fare il piangino o per piangerci sopra, perché non l'ho mai detto, non mi sono mai lamentato della cosa. Però, appunto, me l'hai chiesto, e io te lo dico. L'Italian Farmer, pubblicità di YouTube, non vivrebbe assolutamente, per fortuna che stanno arrivando delle aziende che vogliono investire sul brand di Italian Farmer, con delle pubblicità, e allora diciamo che la situazione lì è un po' più rose, è un po' più apprezzabile, sta diventando un lavoro, ma, diciamo, sta diventando adesso. Capisci che è un canale che lavora già da molti anni, quindi, fino a quest'anno, potrei dire, ha lavorato in perdita. Ecco. Fine. prossima domanda, se ce ne sono, se no chiudiamo. Sì, ce n'è un'altra. Diedo. Sì. Ciao, complimenti per il video. Ho due domande. Ok. Come fate di imparare tutti i tecnicismi chimici, tipo che di serbante usare su un determinato terreno, o in un determinato periodo? Ok, allora, sicuramente non a scuola. La base di partenza è questa. Sicuramente non a scuola, tutto da autodidatta, studiando in internet, informandomi, quando c'era il problema effettivo sul campo, mi andavo a strainformare su libri, internet, eccetera. Ho esperienze poi con mio padre in azienda, che era già navigato nel settore, eccetera, eccetera. Approfondimenti personali, così via, che sicuramente la scuola non ha dato. E tutto qua, in sostanza. E dopo tanta, tanta passione, voglia di fare e di imparare. Poi l'altra domanda sempre di Edo è come mai si semina il mais con le ruote strette? Beh, tante coltivazioni si seminano con le ruote strette, perché si cerca di non andare a compattare con la ruota sulla fila. Quindi la ruota effettivamente sta tra una fila e l'altra. Basta, fine. Allora, chiaro Beppi, io direi che possiamo fare gli addobbi e poi ci possiamo salutare, perché il video ve l'ho fatto lungo apposta, ragazzi, che così, molto molto semplicemente, probabilmente settimana prossima ci saranno due appuntamenti con i soldi di Giuliano, con i soldi di Giuliano, con la farm di Giuliano, scusate, la caccia col Beppi e la serie su GTA, sicuramente un paio, e quindi, ragazzi, probabilmente i contro testisti non ci saranno, forse ci sarà solo un episodio proprio risicato. Vedremo, vedremo, vedremo. Dai, ragazzi, io direi che qua mi posso fermare, dopo lo finisco in off-camera, e possiamo mettere gli addobbi. Che addobbi ci sono? Cosa ci offre il gioco? Allora, un albero di Natale, bruttino, e un... pupazzo di neve. Non c'è altro, veramente? C'è pochissimo. Di non bagato c'è pochissimo. Di non bagato, ok, perfetto. Io direi che lo piantiamo qua, dove c'eravamo ribaltati, dove si era ribaltato dentro la casa, l'albero con gasp. Merry Christmas, ragazzi, sembriamo ad Amsterdam. Cioè, basta su... I am il saluto di Giuliano. No, è perché, ragazzi, non sto scherzando. Dai, è bello perché è a I am Amsterdam, però... Vabbè, basta, non andiamo avanti, che dopo andiamo in discorsi. Ok, mettiamo di fianco due pupazzi di neve. Tac. Ma sì, ma la base è anche messa male. Vabbè, ok. E tac. Bene, abbiamo i nostri pupazzi di neve e il nostro albero di Natale. Cosa dici, Bebby? Poi, caso caso, metteremo la neve. La neve? Perché c'è una moda... Ah, sì, è vero, l'ha segnato un ragazzo, se non sbaglio, giusto? Sì. Finalmente ci l'ha trovata. Che ringraziamo anche quello, che è Lamborghini 2005, giusto? Sì. Bene, grazie a Lamborghini per averci trovato la moto che ci servirà sicuramente. Benvenuti nelle Alpi. Detto questo, vi faccio salutare da Luca. Ciao a tutti. Da Ema. Ciao a tutti. E da Giuseppe. Ciao a tutti. Io vi auguro un buon continuo di giornata, ci vediamo domani con un nuovissimo episodio, vi mando un caro saluto e ci vediamo in un prossimo video. A presto. Ciao a tutti. Grazie.